Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Questo sarà un video un pochino più diverso dal solito Perché oggi faremo un tutorial su come creare uno slime E per farlo avremo bisogno di un po' di bicarbonato di sodio La colla ad acqua Questo particolare liquido che serve appositamente per fare gli slime E poi ovviamente i colori alimentari E poi voglio provare ad inserire questi insetti di plastica nel nostro slime In modo da renderlo ancora più schifoso Bene, mettiamoci subito all'opera Fermo cosa fai? Ma, Vastatore, che ci fai qui? Che cosa pensavi di fare? Avevo intenzione di fare un video, sinceramente Avevi intenzione di fare un unboxing senza di me? No, Vastatore, non sto facendo un unboxing oggi Ah, qualcuno ha detto unboxing No, Arex, pure tu Io ho detto che non sto facendo un unboxing Non stai facendo un unboxing? E allora che stai combinando? Beh, oggi volevo fare un tutorial su come realizzare uno slime Ah, io amo gli slimeshkles Ah, che schifo gli slime Ma non avevi proprio niente di meglio da fare, eh? Beh, ma è questione di gusti A me piacciono gli slime Sì, anche a me Non credo proprio che ti piacerà questo slime, Arex E perché? A me piacciono tutti gli slimeshkles Perché in questo particolare slime ci inserirò gli insetti Gli insetti? Ma cosa? E dove sono? Proprio davanti a te Ma chi è? Ah, che schifo! Ma come ti salta in mente una cosa simile? No, 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 io mi rifiuto di fare una cosa con gli insetti Ma infatti voi non dovreste centrare assolutamente niente con questo video Oi, come ti permetti? Infatti? Ma chi ti credi di essere? Volete per caso farlo voi lo slime con gli insetti? Tch, io gli slime non li tocco, mi fanno troppo schifo E io non tocco gli insetti Eh, infatti mi spiegate cosa ci fate ancora qui? Avanti, andate via, fatemi fare questo video in pace Ma ti rendi conto che ci caccio via come se fossimo moschie? Ma infatti, cioè, ma è proprio una persona orribile Senti bello, guarda il logo del canale Il logo del canale? Chi c'è sul logo del canale? E tu E chi l'ha disegnato il logo? E l'hai disegnato tu E allora sono io che decido Perciò sparisci da questo video No, aspetta, qui bisogna aprire una grande parentesi Il fatto che tu sia sul logo del canale non significa che tu sia il capo Certo che fa di me il capo Io ti avevo proposto di disegnare sia me che te No, se avessi disegnato pure te Sarebbe arrivato Veloci Marco E avrebbe detto Perché non hai disegnato anche me? Poi sarebbe arrivato Pato Mauro E avrebbe detto la stessa cosa Lo stesso per Nonna Sauro E tutti quanti gli altri Perciò sul logo ci sono io E basta, così non si lamenta nessuno Eh, ragazzi, smettetela Qui nessuno è il capo E poi, Arex Ci tieni davvero così tanto a fare questo video? Sì, però lo slime lo fa abbastatore Perché a me gli insetti fanno schifo Ehi, e a me fanno schifo gli slime Ma ne c'è, adesso come facciamo? Eh, ragazzi? Ancora? Che c'è? Eh, la soluzione sarebbe semplice Infatti il video dovrei farlo Io Cioè, senza di voi Quindi voi non dovete fare assolutamente niente Quindi andatevene via E lasciate fare lo slime a me Sì, ti piacerebbe Infatti Non ti libererai di noi così facilmente Ecco Perciò vattene Ma E se io me ne vado Ti lo fa lo slime? Tu non ti preoccupare Questi sono fatti nostri Bah, va bene Allora me ne vado E vedete di non fare troppo casino Vai tranquillo Ora sparisci Ok, ok Me ne vado Vai, vai, vai E non litigate Ancora qui, stai Sparisci Ah, che seccatura Quel cameraman Infatti Beh, dai Iniziamo a fare questo slime Sì E come si fa uno slime? Ah, boh, non lo so Allora, vediamo cosa abbiamo qui Questi devono essere I colori alimentari Poi questa roba è Magic liquid Liquid Magic Che penso sia una sorta di liquido Che serve appositamente Per fare gli slime Oh, figo Poi abbiamo questa roba Su cui c'è scritto Primo Ed è Che cavolo è? Ah, la colla ad acqua E questo? Quello è il bicarbonato di sodio Ah, ok Beh, iniziamo da questa Ma, aspetta Cosa ti dice che bisogna mettere per primo questa? Beh, perché c'è scritto sopra Ma non c'è scritto da nessuna parte Che va usata per prima Come no? Guarda C'è scritto primo Ma che? Primo è la marca Ah, ok Vabbè, dai, iniziamo Ok Oh, che schifo Ma dai, Arex Sono finte gli insetti Vabbè, ma mi fanno schifo lo stesso Uffa, come sei schizzinoso Dai, inizia a fare questo slime Aspetta Ma non avevamo detto che l'avresti fatto tu Io non ho detto proprio niente Ma se devo farlo io Significa che poi dovrò toccare gli insetti E io dovrò toccare lo slime Uffa, qua abbiamo un problema Nessuno dei due vuole fare questo slime Mmm Come possiamo fare? Ah, bastatore Ho un'idea Dimmi E se lo facessimo fare al cameraman? No, e dovremmo dargli questa soddisfazione? Beh, no Il video lo faremo sempre noi Però ci serviremo delle sue mani Oh Dio, sentirla così Sembra abbastanza inquietante Hai intenzione di mozzargli le mani? No Farà semplicemente tutto ciò che gli diremo Mmm, sì Potrebbe funzionare Dai, richiamiamo col citrullo Ok, citrullo Cioè, volevo dire Camera man Che c'è? Ah, caspita Ha risposto subito Mi sa che era rimasto qua vicino a spiarci Quello stupido ficcanaso Mi dite cosa volete? Vieni qui Abbiamo un compito da affidarti Eccomi Cosa volete? Oh, no, niente Volevamo solo dirti che ti vogliamo bene Sì, certo Dai, cosa vi serve? Ti vogliamo schiavizzare e sfruttare Oh, potevi dirlo anche in modo un pochino più gentile E cosa dovrei fare? No, niente Stavamo pensando Che siccome a me fanno schifo gli insetti E a Vastatore fanno schifo gli slimesh A questo punto Lo slimesh lo farai tu Lo sapevo che sarebbe finita così Dai, andatevene che faccio lo slime Eh, no Hai capito proprio male, caro mio Ma hai appena detto che Tu farai lo slimesh Ma saremo sempre noi a dirigere il video Quindi tu farai tutto ciò che ti ordineremo Siete proprio impossibili voi due Ora basta chiacchierare Dai, inizia a mettere la colla Ah, va bene Allora, prendiamo questo per primo Eeeh, ha fatto il gioco di parole Prendiamo questo per primo Cioè, primo Ehehehe 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 Ragazzi, e dai Ok, scusa Allora, mettiamo un po' di colla Così Basta! Ok Ma quanto ne vuoi mettere? Dai, scegliete un colore Ovviamente viola Verde Viola Verde Viola Verde 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 Va bene, ragazzi, adesso sapete cosa facciamo? Ne facciamo prima uno viola e dopo ne facciamo uno verde Che ne dite? Ecco, così va meglio Ok, ci sto Allora, mettiamo prima un po' di questo bianco perlato Poi mescoliamo Come vedete inizia già a diventare bellissimo Guardate come brilla Ora mettiamo un po' di viola E andiamo di nuovo a mescolare Ed è venuto fuori questo viola perlato Guardate che bello Oh, fighissimo Mi piace, mi piace Ora mettiamo un pizzico di bicarbonato di sodio Ora mescola Eh, un attimo, è quello che stavo facendo Sì, lo so, però te lo dovevo ordinare Altrimenti che divertimento c'è Boh, vabbè Più veloce, schiavo Eh, più veloce Vai, su, un, due, un, due, un, due Ah, che pazienza Ora mettiamo un po' di questo liquido Eeeh, per caso ti ho detto di prendere quello? Eeeh, no Però adesso tocca a questo Serve per farlo diventare più denso Ho capito, ma io ti ho detto di prenderlo No, ma adesso ci serve questo Mettilo giù Ma ti ho detto che adesso ci serve Mettilo giù, ti ho detto Ah, ok, ok Ecco, tu non devi fare niente senza il mio ordine Va bene Quindi che devo fare? Oh, prendi quel liquido Altrimenti come facciamo a renderlo più denso? Ma era quello che stavo prendendo Prendi il liquido, ti ho detto Ok Ecco, l'ho preso Ora iniziamo a ragionare Devi imparare a eseguire gli ordini, giovanotto Non dimenticare che lavori per noi Sì, vabbè Ok, dai Dimmi cosa devo fare adesso Ma come che devo fare? Devi mettere quel liquido nella ciotola E mescolare C'è bisogno che te lo dica io Ma se tu hai detto Vabbè, dai, ok E mettiamo un po' di questa Ora mescola Agli ordini Ah, però che schifo Ma non fa schifo, a me piace Secondo me sta venendo davvero bene Tu sta zitto e mescola Ok Direi che è denso abbastanza E questo chi lo dice? Tu? Ah, no, scusa Allora ditemelo voi Secondo voi è abbastanza denso? Di certo io non lo tocco Arex, tocca lo slime E dimmi se è abbastanza denso Ok Mmm Ah, ma che schifo Sì, direi che è abbastanza denso Ok, cameraman è abbastanza denso Benissimo Stiamo facendo proprio un ottimo lavoro, Arex Eh sì, siamo proprio bravi Ma, ma, ma Fino a prova contraria allo slime lo sto facendo io Sì, sì, certo Senza di noi saresti perso Ma Bene Adesso aggiungiamoci gli insetti Aia Ti ho detto di aggiungere gli insetti? No Scusami Allora dimmi Cosa dovrei fare adesso? Aggiungi gli insetti Agli ordini Ecco qui E andiamo A mescolare bene Bene Adesso prendi lo slime E faccio vedere come è uscito Ok Vediamo un po' qui Ok ragazzi Io direi che è venuto davvero davvero bene Cioè fa davvero tanto schifo Oddio, guardate Poi tastandolo fa ancora più schifo Perché scoviamo tutti gli insetti che ci ho inserito Comunque creare slime è davvero una cosa super divertente Perché potete decidere voi quanto farli densi E quanto devono essere elastici Cioè guardate che figata Sembra quasi una ragnatela E poi potete ricomporre tutto quanto Possiamo anche appallottolare E state a vedere Pop Ah che schifo Come ho usato a lanciarmi quella robaccia piena di insetti Ehi ehi Non agitate troppo quella roba mentre si trova vicino a me Beh, ora facciamo quello verde Sì Allora mettiamo nuovamente la colla d'acqua Camera man Oh che c'è? Ti ho detto di mettere la colla Giusto, scusa Posso mettere la colla? Vai, metti la colla Grazie Bene, ora metti il colorante Sì, un attimo Mettiamo il colorante Bra, ora mescola Un attimo sto mescolando Sì ma il verde che piace a me non è così Vabbè Arex, questo è il verde che c'è Ma a me piace il verde più chiaro Ok, allora sai cosa facciamo? Proviamo a mettere anche un po' di giallo Ah, ma io non lo volevo giallo Aspetta e vedrai Ah, ma sta diventando verde più chiaro Ma va? Vabbè ora basta mescolare, dai Metti il bicarbonato Mettiamo il bicarbonato Questa volta proviamo a metterne un pochino di più Bra, adesso possiamo fare la torta Ma non vedi che ne hai messo troppo? Ma secondo me no E adesso mettiamo di nuovo il liquido per gli slime E adesso aggiungiamo gli insetti Eh? Ah giusto, posso aggiungere gli insetti ora bastatore? Mmm, aggiungi gli insetti Grazie Ora prendilo e fai vedere come è uscito Ok E infatti aggiungendo più bicarbonato Questa volta è venuto fuori più compatto Ed è anche più resistente Ti guardate Io tiro Ma non si spezza Si è spezzato Bene ragazzi Il video finisce qui Mi raccomando Fatemi sapere se vi è piaciuto Che cosa stai facendo? Eh, sto salutando tutti i ragazzi E li sto ringraziando per aver visto il video Forse non te l'hanno mai detto Ma gli addetti al saluto Siamo noi Vero, perciò vai via Ma, ma, ma Vastatore Come lo chiamiamo questo video su YouTube? Diamo un titolo semplice come sempre Del tipo Arex e Vastatore creano uno slime Si, mi piace Per l'esattezza Arex e Vastatore creano uno slime con gli insetti Bel, bel, mi piace No, scusate ragazzi Un attimo Ma sono io che ho fatto lo slime Tu non avresti fatto proprio un bel niente Senza le nostre indicazioni Quindi niente Bene ragazzi Il video finisce qui Mi raccomando Cliccate qui Ops Scusami Arex Dicevo Cliccate qui Per iscrivervi al canale E qui Per guardare anche gli altri video Dedicate ai vostri giocattoli preferiti Noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Ciao Ciao a tutti